Oggi voglio raccontarvi una bella storia di un imprenditore italiano che ha iniziato la sua avventura nel 1947 e quando ha iniziato il nome della sua azienda era leggermente diverso, ora vi svelerò perché. Lorenzo Isoardi ha creato la sua agenzia di servizi turistici a Cunio e nel corso del tempo ha iniziato ad offrire ai suoi clienti dei pacchetti viaggi tutto incluso dove c'era anche il trasporto e si parlava di Inclusive Tour. Allora a questo punto vi svelo il nome iniziale dell'azienda che derivava anche dalle montagne vicine a questa città Cunio. Parliamo delle Alpi, l'azienda si chiamava inizialmente Alpi e poi con la contrazione di Tour è diventata la grande Alpitour. Ciao!